ciao a tutti amici benvenuti su questo mio nuovo video siamo qui oggi su un gioco particolare perché oggi si parla di un gioco che si chiama The Precinct e sono contento di poter velo portare anche se devo ammettere che chi mi ha portato per prima è stato Fanconero quindi io vi consiglio di vedere da noi e anche perché il primo fan di Fanconero sono io e quindi ho visto sta demo su stream ieri sera e ho detto ma sai che c'è me la scarico che sai giochi polizieschi no mi piacciono no uno degli ultimi che fu è stato E.N.I. Noire e quello ho detto ma sai e oggi vedo il video di Fanconero ho detto ah e beh già avevo in mente di farci un video quindi ho detto beh perché no più persone parlano di questo gioco alla fine è meglio è e quindi perché no ancora devo vedermi il video di Fanconero effettivamente quindi non so niente iniziamo questo visore da un anto mezza isometrica beh 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 ma la grafica beh devo dire che pressa un anfa un po' coggiuta ma è bene ma è più che bene bene E' là lì siamo arrivati, l'Averno. Abbiamo scritto un obiettivo per proteggere questa città, per guardare i cittadini che vanno in queste strade. Ci sono i pezzi, e ci sono i pezzi. E ci sono noi. Alla balanzare a una città, combattendo l'altro, solo per salvare. Ma è una combina che stiamo perdendo, e tutti lo conoscono. Abbiamo scoperto, scoperto e scoperto. Ma più, abbiamo i pezzi, e ogni pezzi di vita, e pensi che gli dici possono prendere l'amore. E' poichia di noi potremmo, non tutti i nostri pezzi, non tutti i più di Iverno. E' così fine. Abbiamo il nostro nostro share di rot, ma che buono un'otica, se non c'è l'ottica di trarre. Ma io, credo in la badge. Un po' di metà significa qualcosa. And hey, some days the good guys come out on top But most days, most days not so much All the while the fight rages on The lucky ones get a flag and a plaque The unlucky ones get a flag and a 21 gun salute Why do we do it? Truth is, for some of us it's all we know But for others, it's in our blood Beh, è un po' la motivazione di chi fa questo mestiere Ci sono le mene marce come in ogni luogo Oppure in questo luogo di lavoro Chandler, Sayers, you're covering downtown Keep them peeled, these guys are no joke You gotta boss All right, I know you're dying to get out there Can't wait But before you all charge into the blue I want to introduce you to our newest tender lamb Fresh out of the academy Bah, where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night This officer graduated from the academy at the top of his class Yeah, about 50 cents will get you a cup of coffee And Nick Cordell Jr. What? No way Will obviously have some big shoes to fill Jesus, what the? Seriously? I assigned him here? Kowalski, if I may I don't have to tell anyone in here About the late Chief Cordell His stellar record The respect you had for him His untimely death I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell Who's lived with it every day of the last five years But there is one thing I do want to remind you of Every single one of you Took an oath to protect this city Its residents And your fellow brothers in blue That's what matters I don't care what your last name is Who your daddy was Or who you hang out with on your day off Our worth comes from what we do Not who we know I want you to welcome Officer Cordell But I'm not asking you to take it easy on him On it Or hard on him He's a cop Just like you Just like me We're the ones out there making the hard choices And those choices are what make us who we are And Cordell You're gonna have to learn the streets and the precinct The same way these mooks did Are we clear Yes sir Crystal Sir Absolutely sir Thank you officers Watch Commander Appreciated Chief Sergeant Kelly Yeah boss The Rook's with you I pulled the last one Why do you think I'm giving you this one Because I did something in a past life You did something I'll alert the media Alright squad Let's get out there And make Averno City proud Yes ma'am Time to pound pavement Come on Rook Let's go for a drive Ragazzi Il doppiaggio Nel senso In voice acting In inglese Tanta roba Mi piace Si capisci in inglese Quello che è stato detto Vediamo se posso parlare un po' Smettere di guardare Alla fine È come in tutti Ah Alla fine Come in tutti I uochi di lavoro Ci sono i miei mani Ci sono i pezzi di mendo Ci sono le persone brave Chi fa questo Mi insegno Fa perché O ci crede O perché C'è qualcosa Ma di questo Eeeh Sta grafica è spettacolare Cioè Che gli vuoi dire Mamma mia Vengono Vengono Mamma mia Cioè Questa è una preamfa E' una preamfa E vado a 60 fps Fumidi Cioè Pocca miseria Vengono a la ACPD Ehm Guidiamo Ah no Si guida Normal Eh E ti fai muovi Ma pensate Ci sta Il semaforo Il semaforo Il semaforo è rosso Dove vuoi che vado Coglione Non pensi Che mi danno fastidio Vabbè Senti Ok Ok Mamma mia Ma pensa Ma aspettate Il semaforo Basta Vengono Cioè Ok Mo vado A meno di 60 fps Ma Ci può stare C'è un tacco di roba Da vedere Quindi va bene Vengono Cioè Prima impressione Veramente Tanta roba Cioè Sono veramente Colpito Mangiamo Ambe Tiamoci il ketchup Just ketchup Clean and simple Huh I like that What's the damage Farid Leo My friend For you No charge Farid You old softie You earn that tip Every time Don't you Ah Breathe it in kid Best part of the day Besides You can't patrol On an empty stomach You know Your old man Liked his dogs too Ah Of course you do We came up Through the academy Together Took different paths When we got on the force Though He wasn't gonna let Anything get in his way And me Well Let's just say Water finds its level And my level is Easy mode Ok Ok quindi Ci sta una cabina On sbagliato Ok 4 so Queca Ok Ok Kid You wanted the real deal This is it Oh my god Oh my god Ah si combatte Ok dobbiamo andare in copertura Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready Police! Freeze! Drop your weapon! I don't know this There's nothing they're gonna give us a choice Ok Central, suspect is neutralized Suspect KIA Copy that 84 Ok This is Greg Bookman in the ACTV Eye in the sky The number one news chopper in Averno city We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... Hold on, there's moving at the back of the building More criminals coming out, they're boarding a vehicle It's a dark van and it... Oh my goodness, keep it tuned to ACTV folks Looks like we're in for a police pursuit Not only one but one but one but one-on-one Corporate backup Ah okay We can call back up But there's no need to call it The other thing is going to call it Because otherwise Crapes All right I say Let's call it Cruise Backup Ok. Ganno, ganno, ganno. io direi chiamiamo chiamiamo un ericottero perché si ok perfetto quindi adesso lo mettiamo qua vai stronzetta ok just drive carefully hai fatto su pochi hai fatto la nostra macchina F scusami ma non ho capito cioè tu sei qua fermo sei proprio un coglione bene prendiamo lo stronzo dai su non farti pregare comandi più che buone ecco lo stronzo ah ok ti arriva anche il report dell'arresto metto l'arresto no vabbè ah devo firmare io ok perfetto e lo stronzo che vuoi? ah quindi lui va qui io posso andare qua cioè se volessi parlare con te non posso ok perché penso presumo un po' una demo un po' questo mezzo tutorial non ci sta non ci sta non ci sta non ci sta mean Gene what's today's major malfunction oh the usual misfiled evidence sloppy dockets illegible handwriting contaminated evidence I'm surprised some of your friends here made it out of grade school perfetto Cordell meet Eugene our evidence guy Eugene Papadopoulos at your service did Kelly try the old you drive my hip hurts routine on you yet hey thought so he doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza anyway my job is to know where everything is which basically means tracking down whatever you humps misfile mislabel or otherwise misplace why don't we do our best oh I'm well aware of this unit's ah limitations anyway when you collect any evidence you come see me I'll make sure it's safe you're a beach Gene never change wasn't planning on it all right kid you did good today but that won't mean a fart no windstorm tomorrow I'm out of here now see you in the morning unless I die in my sleep god that sounds pretty good doesn't it no in my inità no però va bene lo stesso ok ragazzi i drive perfetto così mi posso anche fermarmi qua la prima fa buonissima morning courtel tidy work yesterday keep that up and you'll be leaving kelly in the dust before he even has time to retire love you too kowalski i know we dropped you right into the thick of it on your first day but fundamentals are important too what she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills come on kelly you know that isn't true this city hasn't paid its bills in years regardless today is gonna be about old-fashioned police work you're gonna walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city check your handbook for the violation ops solo lasciamo sto post facciamo a santa parte un attimo vediamo che dobbiamo fa sei tipi di violazioni di parcheggio quando un veicolo ostruisce un idrante quando è davanti a parte del traffico ha nel senso dei parcheggi a destra invece parcheggio a sinistra in un determinato modo troppo vicino a un passaggio perdonare sul marciapiede dove c'è un azzurro che c'è scritto non parcheggiare e quando il timer è scaduto un altro del parchimetro let's go find some parking violations there are six different parking violations to look for blocking a hydrant parking in the opposite direction traffic too close to a crossing or on the sidewalk oh and of course parking in the no parking zone tipo esse oh and don't forget expired parking meters just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket ah già perché sennò poi non puoi fare un cazzo can you see what parking violation this bozo is committing vabbè io so scemo manco tanto scemo voglio dire si vede hit my shots ma non ce n'hai vabbè when you inspect the meter zero minutes remaining means it is expired it's worth checking the meters at bay that are in use there's a lot of people who don't like to pay their dues these days no tu sei scaduto tu ancora devi scaduto quindi questo è scaduto quindi tu vai qua eeeh meter expired oh io vuoi una mano? mi sa che no vabbè ho capito queste roba che si capisce vabbè tipo tu su ma c'è posso entrare ah posso e chi chiami allora tutti i grimi vabbè giustamente non devi per fronte usare la forza vabbè quindi qua bene vabbè non hai fatto un cazzo ti faccio ma a me sta no ho scelto un dano vabbè ha molto bisogna essere giusti that handbook that handbook will help you stick to the rules we should check for any more spray can bandits nearby graffiti is a type of vandalism and and only warrants a fine Picasso there surrendered as soon as he saw us so we didn't need to arrest him that said some criminals like to try their luck they might throw a few punches or they might take off both of those are arrestable offenses even if the initial crime only warrants a fine once a perp commits an arrestable crime you gotta make the arrest tipo sto stronzo no che vuoi che devo fare ma ma get your baton out partner hey you we got you scumbag non ho capito vabbè però mi è attaccato io voglio arrestarti call an escort unit to take our suspect to the precinct allora i sospettati arrestati devono essere escortati a un precinct vabbè non so ma caserma per essere processati ok e quindi vabbè ho chiamato arbor cambiamo unita ok sta arrivando ah così si cambiano ecco fanno oro o devo fare io vandal vandal at work in my patrol sector received hey you questo è arrivato proprio in una casa ma tu sei un cretino tu sei un cretino tu sei un cretino aiuta il resto proprio guarda il suspect e il desk officer prenderà custodia un cretino un cretino vado corca forza dentro e zitto pur ma pensa te sto scemo ma almeno se devi scappare scappa bene William McGonis vantanissimo bene vediamo se ci dice di fare altro altrimenti per me si può anche chiudere qua vediamo subito vediamo che succede vediamo che succede comunque in una demo questa è una prof ma quello che stiamo vedendo fino a ora tutto tutto molto bene voglio dire andiamo nell'ufficio del capo insomma meglio posso parlare con te speri curioso cos'è la giustizia in ogni caso we're going to need to keep this quiet even here in the shop this is not for general consumption got it ah cordell come in i want you to meet detectives lee and ferrera our top investigators working the organized crime beat heard about your baptism by fire at the bank the other day yeah log 200 more like that and you'll be a real averno cop i don't know look at him i think he's got it in his bones it's good to meet you cordell your pop was one of my heroes that'll be all gentlemen so cordell it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead we discovered a print on a dropped weapon it matched someone who wasn't even at the scene a mr michael mckenzie rich guy lives in a mansion on the north side tactical paid him a visit a few minutes ago but it seems he was tipped off soon as they breached he sped off out the back we're scrambling an aerial unit to track the vehicle now excuse me sir bird is fueled ready for wheels up in two martinez this is officer cordell he'll be with you on this operation a rookie sir is this the right time for it's the right time for you to obey orders flight officer yes sir see you up top cordell we gotta move i authorized you on this mission because i was impressed by your performance at the bank cordell don't make me regret this decision now get up there facciamo bah e ho capito me dai il tempo ah il medicotto bellissimo vabbè che facevo no ma devo portar sta parte film fly ma che devo guidare io ma sii scemo mannaggia puttana mannaggia e dove devo andare va giù ma che senti devo guidare veramente io mannaggia vabbè voi conoscete ma che ho preso ma che ho preso il palazzo perché vado a fun vabbè ok allora adesso noi chiamiamo un cruiser backup a madonna noi potremmo fare un spike strip è se ce è questo è è è a un faccia mia! fatto perfetto ottimo che casino che casino poverino c'è pigliate una botta benissimo! ragà la coppa ci va a non portare questa parte, spettacolare, benissimo amici io direi che con questa bellissima perla è finito? no è finito no è finito, è finito così, amici non è niente, grazie se avessi visto questo video, pianfa fantastica veramente compito, un ottimo gioco, un ottimo prodotto, se questa è una pianfa immaginatevi il gioco quando usciranno, ragazzi grazie per aver visto questo video, noi ci vediamo sul prossimo, ciao ragazzi! ciao 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 ciao